Bentornati sul canale, oggi commentiamo le liturgie del giorno di martedì 27 giugno 2023. Come anticipato ieri, Lot comincia subito a dare dei problemi ad Abramo, allo zio. Insomma, ci sono troppi bestiami, quindi la benedizione di Dio è molto forte ovviamente su questa casa. E si separano, Lot sceglierà di andare in un luogo, Gomorra e Sodoma, noti per il giudizio divino, eccetera. Però è interessante, non è riportato qua, il pezzo è tagliato purtroppo, ma Lot la sceglie guardando che era bello agli occhi il territorio. Cioè, è utilizzata la stessa espressione che Eva utilizza quando vede il frutto che gli viene porto dal serpente. C'è una valutazione che tocca la parte sensibile, che appaga e che viene considerata migliore. Comunque, Abramo pone un criterio molto interessante per un uomo di Dio, non ci sia discordia tra me e te. Scegli tu. È interessante perché ci dà due principi molto importanti. Il primo, il riferimento di ciò che è giusto. Ciò che è giusto non può essere... Non si può dire, ah ma perché io allora insomma sono più vecchio, sono due zio... No, ciò che è giusto è giusto, non ci sia discordia. Secondo, l'uomo di Dio è disponibile a pagare in prima persona, anche rimettendoci per ciò che è giusto. E anche questo è un secondo principio molto importante. Non si può pensare, predicare il bene e poi pensare che altri lo facciano, tenendo per noi magari altri criteri, ovviamente. Il Salmo, beh, il Salmo 14,15 è interessante perché parla del giusto. Infatti dice colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia, non fa danno al suo prossimo, non presta il denaro a usura, non accetta ad uni contro l'innocente. Insomma, alla fine è il giusto, è uno che sa vedere ciò che si deve fare e rispetta tutto questo, anche se alle volte magari potrebbe non essere secondo l'immediata visione delle cose che ha. Il testo di Matteo, ancora del capitolo settimo, prosegue e ci dà un altro criterio interessante. Ci fermiamo, lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme. Dal Vangelo secondo Matteo Dopo aver detto, Gesù ci dà qualche altra indicazione. Prima di tutto, non parlate delle cose di Dio a chi ovviamente bestemmia Dio. E quindi sappiate essere saggi e distinguere situazione per situazione. Nello stesso tempo, altro principio, famosa regola d'oro, tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, voi fatelo loro. Questa è la legge e i profeti. Cioè la capacità di essere in interazione continua, cioè con ciò che è giusto, ciò che magari il desiderio di chi ci sta accanto, che viene prevenuto. Beh, insomma, è precisamente il contrario di chi vive nel suo mondo egoistico, cercando di soddisfare i suoi desideri e non si accorge ovviamente di quelli degli altri, ovviamente. Quindi, oltre l'indicazione concreta, è anche ovviamente uno stile di vita. E poi la scelta, la scelta del bene che è una scelta che deve essere pagata. La porta stretta e la porta larga non vanno lette semplicemente come ha nella vita, deve rinunciare e quant'altro. No, il bene va fatto perché è giusto e non si cerca la ricompensa nel fare il bene. Il bene è bello e quindi va fatto per quello che è. Così i genitori verso i figli, le cose più importanti e sacre, non devono essere fatte perché poi un domani lui sarà riconoscente, ma perché è giusto in quel momento rispondere all'appello della coscienza che ti chiama un bene più grande. Anche se questo ti costa. Ecco la strada, la via stretta. La via larga invece è ovviamente qualcosa che non tiene conto di tutto quello che ho detto prima, anche nel rapporto con gli altri e ovviamente consuma tutto quello che c'ha. Prende di tutto. È un po' un atteggiamento da parassita, no? Che prende e consuma e non gli interessa di quelle che sono le conseguenze. Come vedete sono indicazioni molto interessanti che ci dicono però la perdizione, la salvezza, ci dicono una pienezza oppure una dispersione completa. Insomma, da un certo punto di vista sono riflessioni che ci costringono un po' a rientrare in noi stessi perché è soltanto lì che possiamo comprendere come orientare in verità le nostre opere. Vi ringrazio, ho finito anche oggi, vi do appuntamento a domani.